Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore è proprio vero, il gossip non dorme mai Una nota conduttrice svela alcuni dettagli sul suo passato Sposata da anni con un ex calciatore, scopriamo insieme quali verità segrete ha svelato la conduttrice sulle sue passate relazioni Ospite a Domenica in, la conduttrice parla a cuore aperto. Sembra sia vero, verità segrete sulla vita privata della nota conduttrice Ilaria D'Amico Ilaria D'Amico è stata invitata come ospite a Domenica in condotto dalla bravissima Mara Venier La D'Amico è sua collega e ha parlato dell'inizio del suo nuovo programma che c'è di nuovo, dopo aver raccontato del dolore per sua sorella Il format inizierà a breve su Rai 2, perché è stato rinviato più volte Ilaria è una giornalista che si è impegnata in particolare per i primi anni della sua carriera sulle notizie che riguardavano lo sport e il calcio Ha condotto la giostra del gol, Sky Calcio Show e da molti anni va in vari programmi su Europei, Mondiali e Champions League Tanto gli piace questo sport che la D'Amico si è sposata con un calciatore Si tratta di Gigi Buffon, ex porchiere della Juventus e della Nazionale Prima di lui, però, Ilaria si era sposata con un noto imprenditore immobiliare di nome Rocco Attisani I due hanno avuto un figlio insieme e la conduttrice svela delle verità segrete sul loro rapporto Rocco è un padre fantastico e l'approdo di un amore che aveva delle cose bellissime Ma aveva una difficoltà nelle cose quotidiane, non riuscivamo ad andare d'accordo confessa Ilaria in una passata intervista I due hanno un ottimo rapporto e ormai la loro è una famiglia allargata Oltre ad il primo genito Pietro, troviamo anche Leopoldo Mattia, nato dal matrimonio con Buffon Gigi, però, ha anche due figli Luis e David avuti dalla storia con la legnasse Redova su cui spunta la clamorosa indiscrezione Molti si sono chiesti se tra Ilaria e l'ex portiere della nazionale ci sia odore di crisi, ma la conduttrice risponde a Domenica in Lui voleva fare una smentita, ma gli ho detto, tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero La coppia VIP è sempre stata insieme e secondo lei, i giornali di gossip seguono dinamiche diverse Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono felici ed innamorati Contenti e spensierati, la conduttrice ha un ottimo rapporto anche con il suo ex marito nonostante le verità segrete Contenti e spensierati, la conduttrice ha un ottimo rapporto anche con il suo ex marito Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente